Il primo luglio del 1916, esattamente 105 anni fa, iniziava la battaglia della Somma. La battaglia della Somma è rinomatamente considerata la battaglia più cruenta, più sanguinosa, più nefasta della storia militare britannica che in qualche modo vede questa esperienza come il momento più drammatico, più estenuante, più decisivo della storia anche continentale delle esperienze britanniche. Sappiamo come il Regno Unito, che è essenzialmente un paese navale, marittimo, che vede la sua espansione naturale verso i mari, verso gli oceani, nei cinque continenti, ha sempre invece visto con grandissima difficoltà il fatto di poter combattere sul continente, indipendentemente dal tipo di nemico che si trovava contro. Sappiamo come in realtà la Gran Bretagna ha sempre preferito far parte di grandi coalizioni così da rendere più diffusa possibile, riuscire in qualche modo a frazionare il rischio di un impegno che può essere oneroso. E questa esperienza, la batteria della Somma, che viene condivisa con le truppe francesi, conferma questo elemento, che appunto siamo nel 1916, un anno anche un po' di svolta nel corso della Prima Guerra Mondiale e che dà anche un po' il segno di come possa iniziare dopo quasi due anni di conflitto a sentirsi una certa stanchezza sia fisica che mentale. Ma per ricordare questo evento io vi parlerò del film The Trench, la trincea del 1999 per la regia di William Boyd. William Boyd, che è un grandissimo scrittore di quella generazione che ha avuto il suo grande sviluppo a partire dagli anni Ottanta, pensiamo che ha avuto anche occasione di realizzare un seguito di quello che fu l'opera di Ian Fleming parlando dell'agente 007 e in qualche modo andiamo anche ad affrontare uno dei grandi temi di questo canale e che ci offre anche lo spunto proprio per parlare di un altro elemento molto molto sfizioso di questa pellicola. Ma Boyd ci offre l'occasione che appunto si trova come un elemento di grande novità, come uno scrittore che si cimenta nella regia con anche un discreto successo. Sappiamo appunto che, se avete interesse, vedete un po' la biografia di Boyd che offre anche il senso molto eclettico di un intellettuale britannico che traccia la propria impronta attraverso appunto la scrittura, attraverso la sceneggiatura, attraverso la direzione di film e che quindi riesce anche a combinare più elementi. E questo è un elemento tipico della cinematografia britannica. Pensiamo ovviamente a Chaplin, ma tanto per rimanere alla grande, nel senso che come vi sono dei grandi autori che poi hanno la capacità di non solo inventare storie, ma anche quelle di metterle, mettendosi in gioco ovviamente, su pellicola. Questo film, come del resto molti dei film della cinematografia sulla Prima Guerra Mondiale, offre degli spunti molto interessanti. Sappiamo come la cinematografia della Prima Guerra Mondiale è sempre un po' a singhiozzo, non ha avuto mai una propria continuità e il fatto che alla fine degli anni 90, quando vi è quel rifiorire, è stato quel rifiorire dell'interesse sul seguente al cinquantesimo anniversario dello sbarcho in Normandia, pensiamo a Salvatore il Soldato Ryan, tutto quello che abbiamo già detto in tanti altri film, fare un film sulla Prima Guerra Mondiale rappresenta comunque un elemento di grande sfida, di grande novità e di grande coraggio. Perché appunto poi anche la cinematografia britannica che ha trattato nei decenni la Prima Guerra Mondiale, sempre in maniera abbastanza estemporanea, pensiamo all'esperienza recente del 1917, che appunto dà uno spaccato, un'interpretazione nuova, molto più intima, molto più poco appariscente nella propria costruzione personale, che poi diventa un film assolutamente spettacolare. Nella trincea The Trench invece vi è un elemento molto più psicologico, molto più psicologico perché va un po' a creare un ambiente molto legato alle famose tre unità aristoteliche di spazio, di tempo e di azione. Il film si sviluppa in alcuni giorni che appunto poi arriveranno a quello tipico e topico del primo di luglio, dove appunto anche la conoscenza dei personaggi ci offre la possibilità di andarli a scandagliare, sia a livello individuale ma anche a livello collettivo. Come essi formano un gruppo, un gruppo disomogeneo, un gruppo che ha delle esperienze diverse, un gruppo che in qualche modo porta lo spettatore ad interessarsi anche per la inevitabile necessità di trascorrere il tempo del film perché il film è legato all'attesa. E questo è un elemento che torna in molti dei film sulla Prima Guerra Mondiale e in molti dei film che si ambientano prevalentemente in una trincea, dove c'è la necessità di attendere l'attacco che sia in offesa o che sia in difesa ma allo stesso tempo occupa i personaggi che si legano al fatto di riflettere sul passato, sul presente, sul futuro, sulle proprie aspettative, su ciò che hanno lasciato a casa, su ciò che vorrebbero ritrovare, su ciò che invece la guerra potrà cambiare o li sta cambiando. Ecco come viene anche a emergere la caratterizzazione di soldati che seppur molto giovani hanno però già vissuto due anni di trincea e questi due anni di trincea li hanno inevitabilmente cambiati anche il rapporto con il sesso femminile, con l'aspettativa, con il senso del proibito, le fotografie pornografiche che in qualche modo rendono eccitati ma allo stesso tempo impauriscono perché danno la necessità di doversi rapprocciare con un ambiente che per loro è ancora molto distante. Magari lui era stato vicino, aveva un rapporto con le donne ma da molto tempo non hanno più rapporti con le donne e quindi questo sarà anche un elemento che porterà alcuni a fare una riflessione molto intima. Per quanto riguarda, e qui facciamo anche una iniezione di quello che vi stavo dicendo prima, pensiamo al cast. Il cast sono attori per lo più poco noti a livello internazionale, pensiamo a Paul Nichols, a Julian Rindtut, ma pensiamo a Daniel Craig. Daniel Craig che nel 1999 è ancora quasi un perfetto sconosciuto e che avrebbe costruito la propria fama a partire dai primi anni 2000. Pensiamo a film come Munich, ma poi ovviamente la esperienza con James Bond. E tant'è che questo film, parlando del Casa Nostra, è un film che rimarrà inedito, non passerà al cinema e verrà distribuito soltanto nel 2009 in DVD. Tant'è che appunto la voce che accompagna Daniel Craig è quella di Francesco Bardo, che è identificabile molto bene con quella che utilizza lo stesso Craig nei film di James Bond. Quindi abbiamo, comprando un elemento di grande traino nel personaggio, noi vediamo questo sergentone in trincea, burbero, anche paternalista per certi aspetti, e lo identifichiamo però nel James Bond perché ha la voce al volto di Daniel Craig, ma ha la voce di Francesco Bardo. Ecco quindi anche come il cinema si va a incalanare, si va un po' a diluire nel tempo. In Italia questo film, magari se fosse uscito effettivamente al 99, avrebbero scelto probabilmente un altro doppiatore e avrebbe avuto un effetto totalmente diverso il vederlo oggi con il volto di Daniel Craig. Un film che onestamente, via via, che si andava a sviluppare, mi ricordava anche un po' nel finale, anche se non voglio svelarvi troppo, Gallipoli, Gli anni spezzati. L'elemento di grande interesse nell'accompagnare i vari personaggi, nell'accompagnare le esperienze pregresse, all'esperienza della trincea. Io mi rendo conto che Gallipoli, Gli anni spezzati, ha una sua evoluzione molto più lunga, una narrazione molto più lunga. L'aspetto della trincea è molto più ristretto nell'analisi complessiva, nell'economia della narrazione. Ma in questo film alcune parti mi hanno ricordato il film Gli anni spezzati e secondo me, se avete apprezzato quel film, probabilmente apprezzerete anche questo. Perché? Perché appunto va un po' a descrivere un ambiente molto simile, quello britannico-imperiale, quello in quel caso era australiano, ma secondo me non è troppo diverso. Nel senso che vi sono poi degli atteggiamenti, un tipo di cultura, un strubstrato culturale anche nel rapporto con la guerra, con il rapporto di andare in un'altra località. Il fatto che gli inglesi comunque combattino in Francia, che combattino al di là della manica, un nemico che gli appartiene, ma fino a un certo punto è un po' quello che apparteneva alle truppe dell'ANZAC, spedite nel Mediterraneo, spedite contro gli ottomani nel 1915. Quindi abbiamo anche delle simiglianze, degli elementi di confronto rispetto a una narrazione molto compatta, molto lineare, che forse in alcuni punti è un po' ridondante, un po' noiosa, perde un po' il ritmo. La musica aiuta e fino a un certo punto. Da ultimo vorrei fare un esame sul rapporto con l'altro. Nel film sulla prima guerra mondiale spesso il nemico non si vede. Questo è un elemento che torna in molte pellicole. Il nemico è sempre nascosto, è sempre al di là di un fumo, al di là di impedimenti, al di là di qualsiasi sguardo d'orizzonte. In questo film a un certo punto si vede, si vede in carne ed ossa il nemico e si vede il nemico in tutta la sua fragilità, con degli elementi in cui ci si può rispecchiare. E questo in qualche modo ci richiama pure un po' la canzone di De Andrè, dove sostanzialmente il nemico è uguale a te, solo che è soltanto una divisa diversa dalla tua, perché sennò pensa allo stesso modo, vorrebbe tornare a casa, non ha tutta questa desiderio di morire né tanto meno di uccidere e si trova soltanto per un dovere morale, per un dovere, per una necessità, per una costrizione, si trova in quel momento, in quel posto. Quindi anche un momento di riflessione rispetto all'esperienza della guerra di ragazzi che attendono con una certa anche un po' rilassatezza, perché poi il fatto di rischiare la vita, si era detto non aprite quelle tende, non fatevi vedere, poi alla fine uno tigne e ritigne per fare una scommessa e quindi puntualmente uno ci rimette la pelle o ci rimette qualche parte del corpo perché ha voluto azzardare, perché non si è voluto fidare del veterano, diciamo ma tu che ne sai. Quindi c'è anche un po' il rapporto della recluta con il veterano e il sergente che cerca in qualche modo sempre di rimettere la situazione nei giusti binari e anche a livello di disciplina, nel rapporto, nel discorso con il colonnello. Quindi tutte le situazioni che pongono anche l'accento sui vari atteggiamenti, le varie inclinazioni, i vari sentimenti nei confronti del conflitto e anche dell'organizzazione militare. Quindi è un firma secondo me che vai la vera a vedere e magari resistere anche se in alcune parti centrali risulta un po' noioso, un po' pesante da poter vedere. Ma alla fine il finale ci offre secondo me una giusta conclusione per renderci ancora più partecipi di una storia sicuramente avvincente. Detto questo, come al solito vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!